Però quest'anno abbiamo deciso che voi dovrete aiutarci. Come potete vedere abbiamo distribuito i testi della canzone di sett'anno che voglio dire, credo che tutti voi abbiate almeno sentito una volta è la canzone di Giro Bonacciaio. Allora, il mio posto è diviso in raponeto, pronuncia e italiano. Noi non pretendiamo che voi leggiate, leggiate il giapponese anche se ci farebbe molto piacere. Io non lo so leggere, per esempio. Basta che cambiate il ritornello in italiano. Solo questo. Che è quello grigio, scritto in italiano, che va ripetuto nel scritto ritornello. Basta che non le dovete fare il ritornello, che non lo sapete di cantare. Non ci sono delle conoscenze. Ok, avete davvero tutti? No, io no. È un'umazione, ok. Grazie. Allora, io chiamerei uno special guest, perché noi abbiamo anche queste vicinanze culturali e di paesi vicini. Quindi chiamo Massimiliano Menta del Corso di Russo. Io non sapevo. Grazie, grazie. Canterà con noi giga. Adesso io porzo il microfono, perché spero che avremo un gran casino di tutti insieme. Grazie, grazie. Poggio il microfono, noi ci prepariamo. La divento. Oltre con l'ruma e poi faremo tena qua. Pronti? Pronti? No, anche le maschere. No, abbiamo perso. No, abbiamo perso. Non è la maschera di tutti. 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 che vuoi mettere di vita, fuori alzai, fuori alzai, fuori alzai, fuori alzai, fuori alzai, la popolazione di terra, prima di un santo riferimento, pura che ci si chiama, noi mettiamo il suo cielo, che vuoi mettere, fuori alzai, 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 fu No è un amore, no è un amore, non è un amore, non è un amore. Grazie.